La rassegna stampa del mattino Dal santo, il tempo e i giornali Oggi è Sant'Eutichio Parliamo di Sant'Eutichio Che è vissuto al tempo dell'arianesimo Fu ucciso per la sua fede cattolica Il sole è sorto alle 5.58 e tramonterà le 18.28 Il tempo per oggi, secondo il bollettino della protezione civile delle marche Avremo un limite delle nevicate inizialmente intorno ai 500-600 metri Ma in risalita fino ai 1300-1400 Dalla serata sui Sibillini Fino ai 1100-1200 nell'Appennino Pesarese Continuerà dunque a nevicare nel corso della giornata Mentre sarà pioggia lungo tutta la costa adriatica Per le previsioni di domani, venerdì 27 Avremo ancora cielo perturbato Vedete con piogge diffuse più abbondanti nelle zone interne Specie quelle meridionali Anche la neve limite sarà intorno ai 1400-1600 metri Per la giornata di sabato invece avremo neve ancora sull'Appennino In particolare centro meridionale Qualche residua precipitazione temporalesca sulla parte di San Benedetto Per il resto avremo solo cielo nuvoloso Le nevicate saranno intorno ai 1500-1600 metri Le temperature sono in lieve aumento Il tempo sarà stabile e bello nella giornata di domenica Continuiamo a leggere i giornali A vedere i titoli delle notizie più importanti Che si riferiscono ovviamente a queste emergenze sanitarie ancora in corso Il resto del calino edizione di Pesaro Tamponi dalle automobili si parte Da lunedì un'attenso struttura in strada dei cacciatori a Pesaro Riuscirà a smaltire tra i 10 e 20 test all'ora per verificare le guarigioni Addio invece a Ranocchi Il grande manager innamorato dello sport La scomparsa a 76 anni Mancano i fondi anche per l'Ant L'epidemia manda in crisi Anche l'associazione si occupa delle persone con i tumori A centro pagine i nostri angeli Un viaggio nel dolore tra medici e infermieri Di terapia intensiva e pronto soccorso Fino a 55 Accessi al giorno L'età dei pazienti che si abbassa sempre di più E nessuno sa dire il perché Risponde il primario della rianimazione Michele Tempesta Ieri ci sono stati altri decessi Intanto a tutela degli operatori ecologici Marche multiservizi Avrà i nomi delle persone positive L'allarme della categoria Del 118 positivo un autista Siamo tutti in prima linea E poi il caso affano di alcuni Riducibili della palestra Che sono stati presi Sono stati denunciati dalla polizia Adesso avranno multe da 303 mila euro Questi culturisti che sono stati sorpresi Ad allenarsi in questa palestra Che ovviamente doveva rimanere invece chiusa Corriere Adriatico Edizione di Marche Nord Doppio ospedale contro l'onda Dal pala indoor preferito dunque al traghetto di Rossi 100 posti Poi gli imprenditori che danno il loro contributo Da BS a Fileni Si allunga l'elenco dei finanziatori Altri 10 posti letto nel campo sportivo In vice vicino a Torrette Saranno gestiti da 160 sanitari cinesi Che sono in arrivo da Wuhan Dove tutto ha avuto inizio L'inchiesta del Corriere Adriatico Sull'Erasmus Erasmus nel caos Qual è l'ultimo volo? 800 universitari delle Marche si trovano all'estero Per studiare quando esplosa l'epidemia Per molti riuscire a tornare adesso È praticamente un incubo E poi ci sono due pagine All'interno del giornale di questa mattina In Edicola Dove potrete trovare le poche cose Che ancora possiamo fare Con l'ultimo decreto Intanto nelle case di riposo di Ancona Arrivano i medici Delle sfide mondiali Poi a Filottrano Una nonna morta di Covid Poi nel giro di 9 giorni Altri due lutti in famiglia E a Pesaro La camera mortuaria vicina al collasso Ci sono troppe salme Anche qua il Corriere di Taglio Basso Ricorda la scomparsa Dell'imprenditore Ranocchi Chiamava lo sport Il fondatore della Team System Che aveva 76 anni Il suo nome legato al basket Al volley E anche al football La fotografia Che fa vedere L'interno di una sala Dove c'è la rianimazione Nel girone dei contagiati Al San Salvatore Niente più come prima Ma abbiamo retto l'onda d'urto Una mattinata in corsia Tra reparti rivoluzionati Operatori sanitari in trincea In rianimazione Il confine tra la vita e la morte La resistenza di Pesaro Comincia da qui Ora l'età si abbassa In terapia intensiva anche 50 anni Non sempre con altre patologie Michele Tempesta Primario di anestesia Rianimazione in prima linea Da 7 posti letto a 40 Grande lavoro di squadra Persone stupende I pazienti più anziani Hanno forse un decorso più drammatico Gli altri resistono meglio Ma Nudi Il primario facente funzione Del pronto soccorso Parla di come A metà gennaio Ci sia stato Un boom di influenze Che ha un po' insospettito E secondo lui Potrebbe essere tutto cominciato Da lì Allora E perché secondo lei Domanda il collega del Carlino Ha avuto questa esplosione Io credo che Pesaro Risponde più che essere la peggiore Sia semplicemente Partita prima Quando a metà gennaio Ci preparavamo Alla normale influenza Abbiamo riscontrato Nelle Marche In Lombardia Molti più casi Che nel resto d'Italia Anche tra i bambini Col senno di poi Penso che Già quelli potessero essere I primi casi Di covid E poi le final eight Sono arrivate dopo Temo che lo stesso andamento Ci sarà In altre province E in altre regioni Ancora dieci decessi In provincia Ma il virus rallenta 127 i guariti Il tasso di positività In calo Da nove giorni consecutivi Siamo passati dal 38% Di martedì Al 29 di ieri Il governatore Luca Ceriscioli Dice tra una decina di giorni Dovremmo toccare il picco E poi calare Intanto la nuova struttura Dedicata ai 100 posti letto Sarà realizzata Alla pala indoor Di Ancona Ed eccolo il pala indoor Questo impianto Che è stato Che è stato costruito Nel Inaugurato nel 2005 Utilizzato già nel 2016 Per ospitare sfollati Durante il terremoto E in questo pala indoor In questo maxi ospedale Saranno ricavati Saranno ricavati appunto 100 posti 100 posti letto Ma intanto Arrivano i cinesi I cinesi Che Realizzeranno una struttura Gestita dal medical team Di emergency Già in prima linea A Wuhan E quindi Saranno 50 medici 80 infermieri 30 tecnici Di Shanghai Tutti appunto Cinesi E in tutto Dice Ceriscioli Grazie alla generosità Dei donatori Salveremo Molte Molte vite E chi sono questi donatori? Abbiamo detto Che servono 12 milioni di euro Per realizzare Questi 100 posti All'interno del pala indoor Ebbene Da i nomi Dei grandi Imprenditori Marchigiani Che sono già circolati Martedì Da straffi di Rainbow Al gruppo agroalimentare Fileni Da Diego della Valle Della Toz Da Francesco Merloni Ieri Se ne sono aggiunti altri Dal gruppo Pieralisi Di Iesi All'ex titolare Di Eden Viaggi Filippetti Poi c'è Orciani Pelletterie Piero Luzzi Della Falc Azienda calzaturiera Di Civitanova Che è titolare Del marchio Naturino Fino all'ABS Di Pesaro Insomma Tutti questi imprenditori Si stanno organizzando Sono già arrivati A raccogliere Circa una metà Della cifra Che serve Quindi circa 6 milioni Di euro L'avvocato Tanoni Raccoglie tutte queste adesioni E speriamo che Si faccia Davvero in fretta Noi al fronte Con la paura per i contagi Invece Questo è il titolo Del Corriere Adriatico La pagina di Pergola L'allarme E degli infermieri Dell'ospedale Poche le protezioni Tamponi Da fare al personale E poi dopo il caso Degli anziani positivi Nella casa di riposo Altri guanti E mascherine Invece Per gli operatori Di Mondolfo Per la fame di posti letto C'è l'idea Dell'ex convitto Quello che si trova a Fano Si tratta Della Vittorio Colonna Uno stabile Di proprietà Dell'Inps La proposta Per alleviare Le condizioni Del San Salvatore Covid Hospital E Checkpoint Dei guariti Invece in strada Dei cacciatori Sarà un punto di accesso Con una tensostruttura Nella sede del centro operativo comunale A Pesaro Dove il personale Asur Del distretto Coordinato Dalla dottoressa Elisabetta Esposto Su prenotazione Farà tamponi A chi ha terminato La quarantena Una cosa identica Praticamente Verrà realizzata Anche a Fano Nella zona Del Colma Anzi al Colma Si è spento Giovanni Ranocchi L'uomo che inventò Team System Urbinate Ha poi lavorato Per Olivetti Quindi alla Berloni Fino a fondare La grande azienda Di software Era partito Creando un'altra società Con 200 dipendenti E 23 milioni Di fatturato Grande commozione A Pesaro Un'immensa perdita Perché Dicolo Era un grande uomo E guardava ancora Al futuro Sponsorizzava le squadre Soprattutto per passione Le lacrime di fabbri Degli Angels Per me Era come un padre L'imprenditore Ha sempre aiutato Anche gli sport Più piccoli Più umili Quelli che non hanno diritto Al ritorno mediatico La protezione civile Consegna anche gli abiti Ai malati A Fano Continuano i servizi Dei volontari Per la consegna Domiciliare della spesa Delle medicine Per le persone malate In quarantena Oltre a quelli Appena citati Afferma il sindaco Seri E l'assessore Alla protezione civile Cristian Fanesi Abbiamo aggiunto Un servizio di consegna In casa E presso gli ospedali Degli indumenti Per le persone malate Così da fornire Un ulteriore supporto In questo momento Di grande emergenza E poi c'è un altro Lavoratore positivo All'interno di Aset Nessuna difficoltà Dicono dall'azienda Il secondo dipendente Ricobrato Non opera Con il conducente Già contagiato I rifiuti Ritirati con speciali kit Dalle case dei soggetti Sottoposti Ad isolamento Intanto La testimonianza Di Mirco Carloni Consigliere regionale Della Lega Che dice Sto meglio Sottovalutati I problemi Della sanità Palestra piena di gente Irruzione Denunce Per il titolare Oltre alla segnalazione Alla multa Sarà notificata Anche la sospensione Della licenza Che sconterà A fine emergenza Sono 339 Le persone denunciate Fino ad ora Perché uscite di casa Senza alcun motivo Nel territorio Della provincia Di Pesaro Urbino Intanto c'è stato Un blocco stradale In A14 Tutti fermi Nell'area di servizio Un blocco A cui non sfuggiva Praticamente nessun veicolo Quello che è stato messo in atto Dalla polizia stradale Di Pesaro Ieri mattina Nella corsia sud Della 14 All'altezza dell'area Di servizio Metauro Ovest Tra Marotta e Senigallia Il piazzale In pratica È stato militarizzato Quasi C'erano circa 20 agenti Che hanno bloccato il traffico E hanno controllato Praticamente Circa una Centinaio Di automobilisti Denunciate In tutto Cinque persone Sospese Invece Le ispezioni Alle caldaie Se ne riparlerà Dal 31 Di maggio L'ordinanza Del sindaco Interrompe L'attività ispettiva Per contenere Il diffondersi Del virus Stop alle ispezioni Dunque Da parte Dei manutentori Il comune Di Pesaro Ha adottato Un'ordinanza Che fa Appunto Prevede questa Sospensione Fino al 31 Di maggio Intanto Arriva la solidarietà Dei vongolari Sono stati versati 6.500 euro Per la sanità L'iniziativa Partita da un gruppo Di industriali E che ha coinvolto La popolazione Ha sfondato Il milione E centomila euro Mentre da Enereco 20 nuovi letti A rianimazione Enereco Per implementare I posti Della rianimazione San Salvatore Questa mattina Arriveranno Nel presidio Di Marche Nord Di venti Iper tecnologici Multi care Sono questi letti Ospedalieri Della L'Inet Donati Dall'ospedale Pesarese E dall'Enereco Spa di Fano Sono dei presidi Di ultimissima generazione Che aiutano A monitorare I segni vitali Dei pazienti I pazienti Covid Positivi Oltre a permettere Al personale Curante Di trattarlo In sicurezza Riducendo Lo sforzo Lo sforzo Fisico Poi Sotto Ecco i penalisti Dal cuore d'oro Tutte le quote associative Sono state versate Sul conto corrente Degli ospedali Marche Nord E il gesto Degli avvocati Della camera penale Di Pesaro Qui vedete Uno appunto Uno di loro Il rappresentante Marco Bajetta L'avvocato Che ha organizzato Un po' Il tutto Poi Da Fano Cantieri bloccati Non c'è Sicurezza Dopo le opere Compensative Della 14 Si fermano Tutti i lavori Del comune Ritardi Almeno per 5 opere pubbliche Difficile anche L'approvvigionamento Dei materiali Fatta riaprire Da autorità Invece un'azienda Per il cemento Delle tumulazioni Mentre il Vescovo Indica l'esempio Di Italo Nannini Ha fatto risplendere Il sole Intorno a sé Famiglia Nova In emergenza 8 anziani Su 10 Sintomatici Si sono registrati 9 decessi positivi Diversi dipendenti Seguiamo Tutti Dicono In biancata L'alta valle Del Cesano Rammarico Al rifugio Cotalini Gestori abbiamo chiuso Per primi L'8 di marzo La stagione invernale Quindi non è mai iniziata La coltre bianca Da Pergola A Serra Sant'Abbondio Ma disagi Molto limitati Intanto Da accogli al Metauro Occorre dare più strumenti E medici di base Dice il sindaco Stefano Guzzi Che chiede una prevenzione diffusa Si facciano più tamponi La pagina di Fano Invece Del resto del Carlino Autisti Quelli degli autobus Intrincea La nuova vita Su questi mezzi Mezzi deserti E passeggeri Con il contagocce Il difficile lavoro Di chi guida I mezzi pubblici Lavoriamo protetti Il campanello È il nemico Pubblico Numero uno Compra una cena Adesso Alla ripresa Vale di più È un progetto Di Ingegna Di due fanesi Ingegna e pasta latini Chi acquista ora Avrà il 40% in più Aiutare i ristoratori E alla riapertura A ritrovarsi a tavola Molto di più Di quello che si è pagato Praticamente Acquisti una cena adesso Con una moneta virtuale E quando sarà finita Questa emergenza Speriamo presto Quella cena Varrà il 40% In più Si chiama Ristobank Ed è vero Ed è un vero e proprio Patto tra il cliente E il ristoratore Senza scopo di lucro Ma con benefici Per tutti È un progetto nazionale Che nasce nelle Marche Su idea Dell'Agenzia di Comunicazione Ingegna di Fano E con il sostegno Del pastificio latini Di Osimo Il tutto Con una moneta virtuale Che appunto È Ristocoint E lo spiega Giovanni Mastrovo Pasqua Come funziona E lo potrete leggere Sul giornale Di questa mattina Ancora Dalla nostra Rassegna stampa La pagina di Urbino Donazioni di sangue Risposta eccezionale I dati dell'Avisi di Urbino Confermano la mobilitazione Di tutto l'introterra Per l'emergenza coronavirus A marzo Oltre 100 prelievi Quando riprenderanno Gli interventi normali Servirà Altro sangue Intanto L'ospedale di Urbino Si trasforma in Covid Questa è la richiesta Di Lorenzo Santi Che è il segretario Del PD cittadino Vanno distribuiti Gli ausili E il personale sanitario È morto Don Elio Invece una vita Dedicata ai più bisognosi Don Elio Era nato da auditore Aveva 83 anni Ed è stato amico E storico Collaboratore Di Nonoreste Benzi È ritornato l'inverno Neve e ghiaccio Sui monti Guardate queste belle fotografie Da Monte Nerone Neve e temperature rigide Più che la primavera Sulle colline Del nostro Intoterra È tornato appunto l'inverno La neve è caduta Nella notte E nella giornata di ieri Ha leggermente imbiancato Dai 300 metri in su È formato uno strato Più cospicuo invece Dai 700 metri e oltre Quasi 30 centimetri La coltre nevosa Sul Monte Nerone Dove la temperatura è scesa Anche di diversi gradi Meno 5 sotto lo zero Neve anche sul Monte Carpegna E sul Monte Catria Nella prima mattinata I mezzi Spartineve Hanno aperto la provinciale Che da Serravale di Carda Sale fino alla vetta Del Monte Nerone Dove sono situate Le antenne Dei ripetitori Della RAE Poi la notizia invece Da Borgo Pace Che è morto Eugenio Cruciani Era il decano Dei Carbonari Il sindaco Pierantoni Dice è stato un punto Di riferimento Anche per i giovani Poi dalla frazione Di Valdara D'Urbino Laurea in video Per Miriana Studentessa di 22 anni In giurisprudenza Discute la tesi Dalla sua casa Tra le montagne Per l'emergenza Un'emozione nuova Ieri invece Vi abbiamo ricordato La nostra Simona Zonghetti Giornalista Che appunto Nello stesso giorno Si è laureata In giurisprudenza Sempre con lo stesso Metodo In via telematica Attraverso Internet La rassegna stampa Finisce qui Per chi ci segue In diretta Sono le 8 e 9 minuti Vi ricordo Che questa sera Alle 20 e 30 C'è il nostro telegiornale Occhio alla notizia Al quale potrete collaborare Come sempre anche voi Dandoci le vostre informazioni Segnalazioni Che sono per noi Utilissime Preziosissime Soprattutto in questo periodo In cui stiamo lavorando Anche noi In modo un po' così Precario Con tutti Con qualche difficoltà Ma insomma Cerchiamo Cerchiamo di portare avanti Anche noi il nostro lavoro E di informarvi Soprattutto In tempi celeri E con Notizie Verificate In questo momento In questo periodo In cui di notizie Fake news Ce ne sono davvero tante E bisogna fare Molta attenzione Quindi Informatevi Soltanto Sui canali Ufficiali Quelli dove ci sono Dietro dei giornalisti Che lavorano Verificano E certificano Le notizie Io mi fermo qua Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio Di una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti